Le gabbionate metalliche danneggiate dal tempo e dalle piene presentavano gravi danni e in alcuni punti si erano addirittura ribaltate nell'alveo. Con l'andare del tempo così, paradossalmente, quella che era nata come un'opera di difesa di sponda si era trasformata in un pericolo per la frazione alle porte di Arezzo, la Chiazza, contribuendo a moltiplicare il rischio idraulico. Adesso una complicata operazione di ripristino sull'omonimo torrente è quasi volta al termine. Il paese era stato infatti soggetto ad alluvioni che avevano interessato il centro della frazione del comune Aretino. Le caratteristiche dell'aria e la gravità della problematica hanno reso necessario un risanamento dell'opera che il consorzio di bonifica 2 Alto Valdarno ha previsto di sottoporre a manutenzione ordinaria inserendo l'opera nel piano delle attività 2023. In questi giorni l'intervento è in fase di completamento, spiega il direttore Francesco Lisi. L'operazione ha interessato circa 15 metri di sponda, consentirà di evitare nuovi futuri crolli e ribaltamenti locali e permetterà di preservare le opere esistenti e con esse le case e i resedi presenti in quell'area. Particolarmente complesso è stato raggiungere l'area di intervento. La presenza di fabbricati e relativi annessi ha reso necessaria la realizzazione di un guado e la successiva canalizzazione delle acque. Quindi sono state rimosse le gabbionate danneggiate e ammalorate, sostituite con nuovi elementi posti su due ordini di forma e dimensioni analoghe alle precedenti.